L'operazione di protezione civile Vardirex di Esercito e Ana raccontata attraverso gli occhi dei bambini che hanno assistito all'esercitazione. Il nono Alpini esce così dalla caserma ed entra a scuola. Bellissimi gli elaborati prodotti dai piccoli scolari della scuola elementare Buccio di Ranallo di Coppito che verranno premiati in un evento organizzato lunedì 12 novembre con inizio alle 18 nell'editorium del Parco del Castello. Attraverso la loro fantasia e la loro libera interpretazione hanno riprodotto momenti dell'esercitazione, elicotteri, salvataggi oppure i mezzi del battaglione Vicenza. Un'esperienza bella e significativa per i bambini che hanno potuto toccare con mano le varie attività quotidiane del reggimento e delle varie componenti di protezione civile che hanno preso parte a Vardirex. La serata al castello sarà aperta dall'esibizione del coro della Portella diretto dal maestro Vincenzo Vivio. Ci saranno canti della tradizione alpina e della grande guerra. Sarà un bel evento aperto alla città. I bambini poi, come si diceva, saranno premiati. Sono stati loro stessi in effetti i protagonisti dell'esercitazione con un esempio di evacuazione della scuola in caso di sisma. A ciascuna delle classi vincitrici sarà consegnato un vocabolario come premio offerto dalla Treccani. Un evento che rinsalderà ancora di più la collaborazione tra il nono reggimento e la città. Questo prima del cambio di comandante. Il 13, infatti, ci sarà la cerimonia del cambio. Al nono reggimento andrà il colonnello Sandri. Marco Iovinelli, dopo anni intensi, lascerà per avere un altro prestigioso incarico al CME.